Ti vuoi tirare indietro oggi, Charlie? No. Contiamo su di te. Eccoli, torno subito. Chieratevi, ragazzi! Gruppi da tre ed esercitatevi con i passaggi. Forza! Oh mio Dio, mi sei mancata. Tu di più. Scusa, e il nostro abbraccio dov'è? Ma voi vi vedo sempre. Oh, loro sono Tara e Darcy. Ehi, ciao. Charlie! Amico mio. Non ti mentirò. Sono venuta principalmente per conoscere i gay di qui. Ma sai che tu e Nick Nelson sembrati proprio una coppia sospetta? Oh, mamma. La puoi ignorare? Siamo amici. Lui è un mio amico. Amici nel senso di amici, oppure amici come... Amici. Darcy! Perché vi sono arrivate delle voci? No, sento solo delle vibrazioni gay. Ti posso giurare che siamo soltanto buoni amici. Mi delude parecchio, ma... Ehi! Sei contattato su qui? Andiamo, andiamo! Vuoi venire?